Visita all'Università di Salerno per il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, che ha incontrato gli studenti per confrontarsi sui temi più importanti riguardanti il rapporto fra i giovani e le istituzioni. Un'occasione anche per fare il punto sul mondo universitario e sulle possibilità di accesso alla vita accademica sul territorio nazionale. Il Governo, non lo so, la Presidente della Camera, le dico che le università sono dei luoghi centrali, sono il giusto percorso dopo una scuola che sia altamente formativa e che dia la cultura a tutti i nostri ragazzi. E poi si arriva all'università che devono essere luoghi pubblici, luoghi indipendenti, dove c'è sempre il merito che prevale, dove la ricerca sia un fiore all'occhiello in ogni dipartimento, dove tutti i ragazzi possano accedere. E non voglio più ascoltare storie di chi è lontano che dice che qui non ha trovato spazio e da altre parti invece ha trovato spazio. Le nostre università devono essere libere, pieni di merito, pieni di indipendenza, con tanti fondi per la ricerca. Perché poi le ricerche che fanno queste università possono essere applicate alla vita reale nei nostri comuni. E se comuni e università lavorano insieme, noi abbiamo grandi progetti di valore aggiunto sul territorio, che può essere di tutto, dalle energie rinnovabili fino ad arrivare ai trasporti pubblici, alla rigenerazione urbana, all'arte, qualsiasi cosa. In modo per far conoscere al Presidente Fico che cos'è oggi l'Università degli Studi di Salerno, quali sono i propri sistemi di valori della propria comunità, quei risultati che ha raggiunto e anche le cose che si intendono ancora realizzare. Quindi per noi viviamo come un'opportunità per far capire che cosa sono stati questi anni, perché abbiamo puntato sulla qualità, sul merito e in qualche modo tutto quello che siamo riusciti a costruire. Un'occasione positiva in quell'ottica della pluralità, perché io dico che le porte dell'Università devono essere spalancate a chiunque, qualunque rappresentante delle istituzioni voglia venire. Noi la viviamo sempre in ogni caso come un'opportunità. e anche ovviamente per chiarire quello che può essere apposizionamento del nostro Ateneo all'interno del più ampio quadro del Sistema Universitario Nazionale.